Eccoci qui ragazzi, benvenuti, benvenuti, da quanto è che non ci vediamo? Ormai mi sembrano passati mesi, allora mi è arrivato un altro monitor e domani me ne arriverà un terzo, quindi ora finalmente posso vedere le cose a destra e a sinistra, ho dovuto mettere la telecamera qui in alto perché giustamente forse la devo mettere qui, perché così vi posso pure riuscire a guardare un pochino in faccia. Allora ragazzi, oggi è un super grande giorno, un super grande giorno, sì sì sì, intanto fate tutte le domande che volete, fate tutte le domande che volete, tra l'altro ho ancora qui gli scatoloni, cioè non so più dove mettere la roba, gli scatoloni, mi sono arrivate tutte le robe del Black Friday, anzi neanche tutte. Allora, perché è illegale che è un e-commerce? Il titolo di oggi e-commerce è illegale, oggi spieghiamo tutto, ma soprattutto voglio dare il via a questa settimana dedicata all'e-commerce, però è una settimana differente dedicata all'e-commerce, non a caso abbiamo qui con noi il buon Nico, Nico Billionaire Maiolini? Bella Rico? Buonasera, buonasera. Il e-commerce è illegale, no l'e-commerce è illegale per quale motivo dicevano che è illegale? Perché ti permette di guadagnare le tante. Allora, bruchetto di viadelli uso ogni giorno SmartKets, bravo bruchetto, bravo bruchetto. Oh ma lo sai che sono, ho visto già le prime commissioni degli affiliati di SmartKets, quindi ci sono degli affiliati di SmartKets che hanno già fatto delle vendite, bravi ragazzi, bravi. Hanno iniziato a spingere, a spingere. È meno di tre giorni. Bene, allora, cosa vedremo questa settimana? Ogni tanto vi guardo pure negli occhi, oggi inserisco questo nuovo format, guardare negli occhi delle persone. No, questa settimana vedremo, cercheremo, intanto Nico si è frizzato, cercheremo di fare un punto della situazione sull'e-commerce oggi, quindi io ormai ragazzi vi ho qui, vi ho qui, vi ho qui, non so più dove guardare. Faremo un punto della situazione sull'e-commerce 2021 per prepararci per il 2021 e in realtà non volevamo più fare, diciamo dedicare altre settimane, quindi riaprire il buon billionaire, perché insomma abbiamo un sacco di roba da fare, però cosa è successo? In questi ultimi giorni mi sono arrivati così tanti feedback sul gruppo del billionaire e così tante richieste di persone che volevano entrare che abbiano detto, allora facciamo una cosa, raccontiamo, ecco è tornato pure il buon Nico, ci sei Nico, ci senti? Sì ci sono, ci sono, sta gestando un po' la luce, ci sono. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, quindi ora mi leggo tutte le vostre domande, però l'idea era stata quella di dire ok facciamo un attimo il punto della situazione e cerchiamo di capire cosa sta succedendo, perché l'e-commerce cambia continuamente, ma soprattutto ora ve lo faccio vedere perché ce l'ho qui sul gruppo, voglio far vedere un po' di risultati dei nostri studenti che partono da questo, cioè è iniziato qualche giorno fa uno screenshot così di Giuseppe nel nostro gruppo billionaire che dice mi sa che non è più un gioco Giuseppe del billionaire, mi sa che non è più un gioco e 33 mila euro yesterday, quindi un giorno 34 mila euro, ok? Per questo è illegale. Per questo è illegale. Billionaire con club, poi scrive 18 novembre, quindi questo era il 28 novembre, stavo scrivendo questo era prima, un tranquillo novembre, questo erano il 18 novembre, i numeri che stavano facendo al 18 novembre, 243 mila euro this month, ok? Poi cos'è successo? Che a un certo punto scrive, questo è probabilmente l'ultimo post di quest'anno che pubblico, a meno che non facciamo un milione di euro al mese, sono passati tre anni da quando per la prima volta ho scritto, qui ha scritto tutto la sua diciamo, dedica al billionaire, a quando è iniziato, però questo mese 500 mila dollari. Allora, perché Nico sono numeri allucinanti, infatti chiaramente illegale, sono tre del billionaire che stanno facendo questi numeri immensi, o almeno che ce l'hanno raccontato. Tanti altri ragazzi stanno facendo dei numeri più umani, ecco, più avvicinabili, però io adesso non so chi chi è che va a 500k al mese. Qualcuno è diventato ricco, non io e te per ora. Beh. Però Sharon sicuramente, neppure io, dice Viola. Esattamente, esattamente. Quindi questo è, cioè nel senso, ma la cosa che più mi colpisce di tutta questa storia è che c'è un ragazzo che si chiama Paolo, che lui lavorava in questa agenzia pubblicitaria in Sicilia e prendeva 900 euro al mese, se non sbaglio, 900 euro al mese per un full time e tutti i giorni andava in agenzia, in un'agenzia pubblicitaria e faceva il grafico. Poi si è iscritto al billionaire questo ragazzo e a un certo punto su Instagram l'ho notato, ho notato che era molto bravo a editare le foto, noi stavamo cercando un altro art director e quindi gli ho detto, ho visto che era del billionaire e ci ho parlato e lui però stava già lanciando, stava facendo i suoi e-commerce, però era in un momento in cui non aveva ancora successo, faceva qualcosina e io gli ho detto guarda, nel frattempo che fai questo, a noi serve un grafico, visto che sei molto bravo mi piacerebbe averti in squadra e abbiamo iniziato una collaborazione in remoto, quindi lui non doveva andare in ufficio, a progetti, nel senso era di base lavorava full time, però comunque non è che aveva gli orari di inizio e di fine, avevamo fatto un accordo con un tot di progetti da seguire per 1500 euro al mese, quindi un passaggio lui era passato da questi 900 a questi 1500 euro al mese, però comunque stava sviluppando i suoi progetti, tant'è che a un certo punto mi inizia a dire, perché poi lui insieme ai suoi soci hanno dato pure una mano nel billionaire, nel supporto del billionaire, perché comunque stavano ottenendo dei bei risultati, eccetera, scusate, e cosa succede? Cioè succede che a un certo punto, qualche mese fa, specificatamente a metà agosto mi pare, mi dice Gian, io vi devo, metà luglio, non mi ricordo, io vi devo salutare e tra l'altro sto veramente in difficoltà perché noi d'accordo abbiamo pure dei termini per interrompere il rapporto e lui mi chiede posso andare via prima dei termini, non mi ricordo adesso bene la storia, però in pratica lui va via, mi dice due settimane, può stare due settimane, non riesce, e dico, ma Paolo cosa è successo? Cosa è successo? Cosa sta succedendo? E lui mi fa, no, perché stiamo scalando? Stiamo scalando, e dico, vabbè sì, stai scalando, quanto state facendo? Ero piuttosto tipo, dai, come sta? E a un certo punto mi inizia a far vedere i numeri che stanno facendo, dico, ok sì, forse sicuramente è il momento che ti concentri su questa cosa qui. Quindi per quanto mi è dispiaciuto perdere un art director di Cristo, veramente bravissimo Paolo, è quello che tra l'altro ha fatto il nostro, pure lo sfondo che vedete, le transizioni di tutte le transizioni che usiamo qui su Twitch, però giustamente stavano facendo, stavano arrivando ai 100k al mese e quindi ora nel giro di poco tempo sono arrivati a fare 500k al mese, che è veramente la storia di ragazzi che semplicemente si sono, hanno acquisito delle competenze e si sono fatti il culo. Quindi ecco, questo per dire che a un certo punto, a un certo punto è arrivata questa testimonianza veramente allucinante. Poi tante altre, di altri ragazzi che stanno, cioè che hanno mandato questo qui, ragazzi se siete nel gruppo stanno tutte quante sul gruppo. Quindi 10 giorni store online 1300 euro. Secondo giorno, le ads sono spente per il secondo giorno, ma lo store continua a fare... Sì, cosa è successo? Mi sto perdendo le domande. No, 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 sono arrivati due vendite, era per completare quello che stavi dicendo. Eh, ok, sì sì, esatto. C'è Gabriele che dice, voglio condividere il mio piccolo risultato. Fino a qualche mese fa facevo il cameriere 19 euro al giorno e guadagnavo molto poco e per questo è per me un enorme passo avanti, 103 euro in un giorno, ok? Quindi tutta questa roba qui, secondo me è proprio quello che serve per riuscire a far arrivare questo mondo. Perché sai, tutte le cose che noi non conosciamo, quando uno dice una parola che gli altri non conoscono, quelle persone che la sentono, è come se gli si abbassa la sara cinesca. Perché sembra una supercazzola. Prova a pensare, Nico, la prima volta che hai sentito parlare di dropshipping, che magari non ci capiva in cazzo e dici, vabbè, mo che è questa stronzata, no? Vabbè, però io sono un early adopter. Tu sei un early adopter, questo è vero, tu ti tuffi nelle cose prima degli altri. Sì. Però in generale, sai, tutte le cose, ti faccio un altro esempio, per me è la prima volta che ho sentito le criptovalute e ho detto, vabbè, questa sarà un'altra stronzata. Una stronzata. E là l'ho detto pure io. Tendiamo ad avere un po' questo approccio di dire, quello che so io è giusto, quello che non so è una stronzata. O comunque è troppo complesso, è troppo complicato per venirne a capo. Questa è una sensazione che io ho provato tantissime volte, ma anche con magari persone. Vedo una persona e dico, questa mi sta sul cazzo. Boh, a pelle mi sta sul cazzo. È naturale, è un bias, dice Rialba. Assolutamente, esattamente sì, è un bias. tutto quello che non conosciamo per la prima volta ci sembra una stronzata. Il problema è che quando noi non approfondiamo quella conoscenza lì, rischiamo che, cioè se non siamo abbastanza curiosi o molte volte abbastanza stronzi, scusate la parola, da intignarsi, come si dice nelle marche, ti sei intignato, ti intigni, ti prendi la cosa di continuare e continuare a battere, a battere, a battere, non riesci neanche a capire quello che sta succedendo. Che è per esempio la mia esperienza con Twitch, cioè io su Twitch mi sono intignato e ancora non ho capito come funziona, però prima o poi ne verremo a capo anche di questa cosa qui. Perché è così che funziona, cioè parli con le persone che lo conoscono, ti fai un corso, continui tutti i giorni a fare quella cosa lì e prima o poi ne esci. È quello che stiamo facendo con le startup, cioè sulle startup e oggi 9300 persone in live, grazie si vola, vabbè, fate sempre volare, altissimo. Vabbè, quindi per dire, la cosa che, cioè la più grande secondo me, la più impattante per dire una parola cara alla community, cosa che noi possiamo fare è riuscire a far vedere una strada, cioè riuscire a far vedere una strada che porta in una direzione, farla vedere e riuscire a far capire che è una strada reale, concreta e percorribile. Questa è, secondo me, un'idea molto interessante di fondo. Perché se tu, cioè io la prima volta che ho iniziato, ciao ragazzi, per la prima volta che ho iniziato a, non so da dove hai iniziato il tuo percorso, se ti ricordi come diceva Giuseppe, mi è piaciuto questa cosa che ha scritto nel messaggio, sono passati, beato lui, cioè sono passati tre anni e già questi risultati, tre anni da quando ho scritto per la prima volta, ho acceso il pc e ho scritto how to make money online, come fare soldi con internet, no? Non so se Nico tutti ricordi o voi ragazzi vi ricordate qual è stata la vostra, cioè il primo trigger che vi ha fatto scattare l'attenzione alle nuove possibilità, perché non tutti sono partiti col make money online, voler fare soldi con internet può essere magari un qualcosa di diverso, social media, ognuno ha la sua. A me è capitato, però è in modo diverso, cioè nel senso l'e-commerce è prettamente dal web, a me è capitato invece di essere affiancato dal digitale per guadagnare con il digitale. Mi è successo quando ero rappresentante. Ma tu avevi fatto una ricerca o ti è apparso qualcosa dal nulla? Allora, all'epoca vidi tipo quel The Secret, c'è un documentario su YouTube, una roba del genere tipo su The Secret, e poi c'erano tutte quelle cose tipo scam che apparivano, quei banni come quello, sono veramente euforico tutte quelle cose così. Però diciamo che da sempre, quando ancora YouTube era in lingua inglese, io ho lanciato dei video su YouTube, lasciati tutta una notte a caricare dal PC, giusto così per provare, come dicevo prima, sono sempre stato, diciamo, unirli ad opter, lanciarmi nelle cose, ho fatto sempre le cose brutte. E poi, niente, anche lì, senza saper fare un sito web, ho lanciato un sito web e poi là ho capito che effettivamente si poteva fare qualcosa con internet, perché avevo letto da qualche parte il fattore che potevi guadagnare con AdSense, e quindi avevo lanciato tipo il sito internet. AdSense è stata per te la... Sì, è stata la prima cosa, è stata, sì, da AdSense, però non ho mai fatto un blog, cioè l'ho fatto, però non l'ho mai portato avanti. Poi ho fatto un sito dove ci postavo delle fotografie in discoteca e poi il sito Party Guide, però tramite le fotografie in discoteca che io davo un servizio alle disco e loro mi pagavano. E quindi da là ero affiancato al digitale. E poi, niente, poi sono passato dalla start-up al social media. Comunque intanto leggo un po' di commenti che qui dice Richileu, Facco che diceva se la tua vita vale meno di 16 euro, vergognati! Perché Facco promuoveva così digitalization, diceva, dove ce l'ho digitalizzato? Vale meno di 16 euro, vergognati. Si diceva, questo vale 16 euro, se la tua vita vale meno di 16 euro, vergognati, compra questo libro. E poi ho conosciuto voi e vedendo i casi studio presentati a digitalization sono rimasto non solo abbagliato dagli enormi guadagni, ma dal fatto che erano così giovani i ragazzi sul palco. E dicevo, ok, anzi, sono più piccoli di me e guadagnano molto, ma molto più di me. E io all'epoca avevo solo la mentalità da fare start-up, progetti start-up fallire, progetti start-up. E poi mi sono buttato a capofitto in questo mondo, tipo dell'e-commerce. Cioè, è stato là che mi sono veramente innamorato poi di questo mondo, che ho iniziato ad acquisire competenze in verticale, perché prima erano molto generiche e poi sono diventati in verticale, perché anche il billionaire 1.0, cioè, tu e Vale avete aperto proprio un mondo e spacchettando, c'è proprio il vaso di Pandora, avete liberato tutte quelle competenze che prima erano nelle nicchie americane, quindi non era nemmeno diffuso. Quindi immaginiamolo in italiano ed era un mondo veramente assurdo, che io quando lo raccontavo dicevo, no, ma devi fare solo Shopify, metti il prodotto, non lo devi pagare, poi devi fare la pubblicità e fai i soldi. E poi sai, Nico, una cosa che leggevo, leggevo anche qui, no? Che dice, il Sapo dice, mi ha colpito questo commento, quando un mio vecchio compagno di classe ha postato uno screenshot di 10.000 euro mensili e lì ho detto, sti cazzo, se lo può fare lui lo posso fare anch'io, ho incominciato. Cioè, se ci pensi, eh? Dico, quello che fa più presa nella fase iniziale quando non si conosce un argomento è il fattore del risultato, dico. Cioè, quello è sicuramente quello che ha più presa, ha più leva su tutti, specie quando non si conosce un argomento. Poi nella fase successiva, una volta che inizi a masticare quell'argomento, inizi a masticare quelle metodologie, quelle strategie, inizi a capire che in realtà è solo l'inizio di un mondo enorme, dove oggi siamo solo, quando? Al 3%, al 5%, non mi ricordo bene, quella che è la stima, siamo solo all'inizio, c'è la nuova età, è la nuova età dell'oro. Sì, beh, sì, l'e-commerce sicuramente. Tra l'altro hanno provato, non so se hai visto che durante questo, dal Black Friday, questi ultimi giorni, hanno provato a dire di disincentivare gli acquisti online, mettere una tassa sugli acquisti online, perché troppe persone stavano comprando online. Troppi. Troppi soldi agli imprenditori digitali, datene un po' pure i vecchi imprenditori di tutti questi soldi. Allora, leggo un attimo un po' di commenti. Allora, il troppo stress e poco rendimento del lavoro da dipendente, valsa Omar. Omar, vorrei proprio sapere però se c'è stato un momento, come questo che ci ha detto El Sapo, che dice quando ho visto, perché c'è un momento, poi ci sta che uno magari non se lo ricorda, c'è un momento in cui uno vede qualcosa e dice, che cosa sta succedendo lì? Quindi non so se ti ricordi quel momento, non so se ciascuno di voi si ricorda il momento in cui comunque gli si è aperto quella connection nel cervello, quella connessione nel cervello. Allora, alla fine dei conti molti... Il tuo qual è stato? Eh, ora ti racconto, ora racconto pure il mio. Ah, comunque io non ho finito di dire che da tutto questa cosa qui, quello che faremo questa settimana, e quindi vi invito, poi vi diremo perché abbiamo organizzato tutto quanto oggi in realtà, che siamo, veramente stiamo lavorando la mattina e la sera, io non ho cenato, come al solito ho finito cinque minuti fa l'ultima riunione e ora sono qui con voi. Quindi abbiamo deciso di fare queste live, ne faremo una venerdì e racconteremo un caso studio, quindi una storia, ne faremo una, forse anche domenica, poi lunedì e mercoledì. E, ma lo possiamo già dire secondo te Nico? No, no, aspettiamo Nello per live che se no ci uccida. Eh, ok, un po' di Nello per live, però rimanete collegati ragazzi perché abbiamo una breaking news, una breaking news. Croccante croccante. Croccante breaking news. Allora, alla fine dei conti molti iniziano grazie al primo guru con la promessa di guadagno facile, tutto sommato hanno fatto bene anche i fuffaguru perché fanno fare il primo passo, per me è successo così. Allora, sai che questa riflessione è interessante secondo me? Perché molte volte quando per noi, cioè quando veniamo da un mondo completamente differente, e questo discorso io me lo sono fatto tante volte, ogni tanto l'ho pure condiviso con voi, però, cioè la mia realtà è così chiara per me e reale, la vita che vivo, che una vita differente non la vedo credibile, cioè una realtà differente non la vedo credibile. E per poter, per poter, cioè per poter entrare in questo nuovo spazio, in questo nuovo territorio, tu devi comunque demolire tutte le convinzioni che ti hanno tenuto dentro il tuo sottomondo, il tuo piccolo mondo in cui hai vissuto fino a oggi. Non so ragazzi se mi spiego, fatemi sapere se si capisce questo discorso. Cioè intendo dire che se io devo affrontare il nuovo, lo sconosciuto e devo partire per un'avventura, devo lasciare le mie vecchie convinzioni. E quindi entro in un territorio, in un terreno in cui io non conosco le regole, non so quello che è possibile e quello che è impossibile. Allora, quando sono in un terreno in cui non so quello che è possibile e non so quello che è impossibile, perché limitare la mia fantasia? Cioè perché limitare la mia possibilità? E qui entra in gioco The Secret, no? Cioè The Secret o il guru che dice che poi diventa ricco senza lavorare o la rendita passiva che fai soldi senza fare niente? Cioè queste sono le promesse che fanno presa non sul coglione, questo io voglio dire, fanno presa sulla persona che è entrata in un nuovo territorio e quindi è disarmata. Cioè se entri, ogni tanto si blocca Nico, cioè se entri in un nuovo territorio, ci sei ancora con l'audio Nico? Però dato che stava bloccando a ripetizione, ti ho messo audio. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi è passato da una fantapromessa, una cosa che poi non è possibile realizzare, ci sta, non ve la dovete neanche prendere troppo con voi stessi, anzi non ve la dovete prendere con voi stessi, perché l'unico modo che voi avete, con cui voi siete, cioè con cui ciascuno di noi riesce a entrare in un nuovo territorio e mettere in discussione quello che crede sia la realtà e per metterla in discussione è chiaro che allora è più facile trovare, cioè preferisco credere alla realtà migliore che mi dipingi. Quindi ecco questa è una cosa che volevo condividere con voi. Vai Nico, oggi non c'è Marco che ci legge le domande. No, no, ho risposto io ad un commento mio diretto, dicevano ma adesso fai su uno store per vendere i cuccioli di dollaro, perché ho postato la fotografia dei cucciolini, gli ho detto vai su Instagram, sceglilo e manda il bonifico, perché sono bellissimi. funzioni. Sì, sono bellissimi, guarda, si vedono. Aspetta che ti ho metto grande, madonna che spettacolo, bellissimo. Sono bellissimi. Ah questa è proprio la tua storia di vendita in pratica, la storia Instagram. Sì, se volete prendete i cucciolini, mandate il bonifico e lo vendiamo senza fare lo store. Vabbè sì, lo store può vendere. No, era giusto per dire perché comunque sono disponibili perché ormai sono da un mese e mezzo, vabbè, cuccioli a parte. Volevo dire una cosa per quanto riguarda poi il fatto di The Secret, che loro poi te la mettono sotto un punto di vista che nemmeno ti devi impegnare, basta il pensiero di fare una cosa per raggiungere quell'obiettivo. Che poi alla fine sì, per come la mette Bob Proctor, cioè tutto parte dal pensiero, però a vederlo in quel modo là, un pochettino io mi ricordo che quando lo vedi con i miei amici e stavamo là a pensare ognuno per fatti i nostri, che si immaginava le cose per attirare, attirare ricchezza, attirare salute. Cioè è una roba veramente strana e quello è stato poi, cioè è stato uno dei primi passi che io proprio mi ricordo. Il fattore di un qualcosa che non conoscevo ma che secondo loro potevo raggiungere il mio obiettivo senza effettivamente far qualcosa. Ci sta. Ma in realtà non è così. Ci sta. Ed è veramente il gradino più facile da salire, perché se ti devo dire che devi lasciare il tuo lavoro, devi rischiare tutto, devi lavorare un botto, devi fare un sacco di cose che fallirai. Io sto tanto bene qua, non sto bene, ma hai dipinto proprio. E quindi è normale che il primo gradino è questo. Allora, bella questa riflessione, bellissima motivazione, c'è una citazione molto vera che tu pensi farci o di non farci, avrai comunque ragione. Ford. Esci il codice sconto per i cuccioli. Allora, John ci dice... Ah, mi ero perso un po' di messaggi. Vero, è difficile, tutti ti prendono per coglioni, devi avere le spalle grosse e metterti in gioco. È assolutamente così. Forse il mio, la mia motivazione è stata il voler battere i miei zii. Hanno distrutto la mia famiglia, rovinato l'azienda di famiglia fondata dal mio bisnonno solo per gelosia nei confronti di mio padre. Quindi fin da piccolo volevo riprendere l'azienda di famiglia ed espanderla. Probabilmente il mio punto inizio è stato quello. Lo sai che tante persone, e forse una delle mie motivazioni pure è stata questa, iniziano un percorso per rivalza. Sì, è un sentimento, chiamiamolo sentimento. Esatto, per un sentimento di rivalza. Un'emozione fortissima. Cioè di rivalza nei confronti di qualcuno o di qualcosa, di una condizione, tipo io mi sento, non mi sento appartenere a questo mondo qui, o di qualcuno. Ora glielo faccio vedere io a questa persona. Sono tutti dei carburanti questi che ti danno la motivazione, come la disperazione ti dà la motivazione. Cioè sono dei carburanti che a lungo andare possono essere nocivi. Però sono un ottimo modo per partire. Cioè perché sono quella cosa che ti accende la miccia. Che a volte se non hai, sei comunque... cioè ti serve quella spinta iniziale. Allora, volevo rispondere a un po' di domande. Volevo dirvi che quindi in questa settimana quello che faremo è andare a raccontarvi il mondo dell'e-commerce per come è oggi e per quello che ci aspettiamo nel 2021. Quindi abbiamo fatto qui una lista di titoli per le pochette proprio per darci una linea guida. Quindi vedremo insieme all'interno di questa settimana di live i primi passi per partire. Poi i diversi modelli di business per fare e-commerce da zero. Perché noi abbiamo... intanto benvenuti a tutti ragazzi. Vi vedo, vi vedo, vi vedo. Siamo partiti la prima volta suggerendo un modello di business che è il dropshipping. Dropshipping con Aliexpress. Però chiaramente dalla prima volta il mercato è cambiato veramente tanto. Per esempio questi ragazzi di cui vi facevo vedere i risultati non fanno dropshipping ma fanno print on demand. Quindi voglio vedere insieme a voi in questi giorni tutti i vari tipi di business quali sono e così che pure voi avete una panoramica maggiore di quelle che sono le... quello che si può fare con l'e-commerce. Tipo c'è la nostra viola che vedo qui in chat che ha aperto un e-commerce con il brand. Quindi non solo dropshipping. Esatto, non solo dropshipping. Non solo dropshipping. Io vorrei aggiungere un'altra cosa riguardo a questo. Di quello che abbiamo già nel billionaire. Allora, noi abbiamo fatto un super aggiornamento billionaire. Quindi chiamiamolo billionaire 2.0. dove sì, di base... Presidente? Presidente? Presidente è con noi? Scattarello. Ciao. Nello scattarello. Allora, dicevo, noi abbiamo fatto un super aggiornamento 2.0 dove di base noi abbiamo dato una promessa fortissima. Cioè tu segui il corso step by step per portarlo a monetizzare entro 60 giorni, in 60 giorni. Ok? Tutto quello che noi diamo nel corso è un corso completo dalla A al business con quel modello di business. Quindi principalmente il drop, poi Nello ha introdotto altri argomenti come il print on demand. Ok? Quindi già sono due tipi di modelli business. Però soprattutto nella parte di strategia facebook ads che è uno strumento molto molto importante per i business online. Quindi andare a fare pay ads non si può andare a pensare di non utilizzare facebook ads. Ci sono delle strategie che sono mirate per chi fa dropshipping e e-commerce ma sono adattabili a qualunque tipo di business online. Perché trattano non in modo generico ma comunque il funzionamento nello specifico della piattaforma di facebook ads. Ok, scusami Nicola, secondo me la gente era un attimo distratta per Laganello. Eccolo qui. Laganello si è bloccato. È rientrato presidente, è rientrato. Ci ha abbandonato Laganello. Presidente Nello. Nello arriva sul più bello, come dice Fra, direttamente da Cortina. Adesso rientro. Ma prima quando l'abbiamo visto pomeriggio però aveva una maglia nera. Sì, uè figa, uè figa, diretta da Cortina. Mi è arrivato Laganello che è diventato tutto ad un tratto della Milano bene. Tornato dal parrucchiere. Nello sei dopamina. Adoro. Nello pronto per dire il nuovo cine panettone con Voldy e The Sick. Nello dove sei? Qui vogliono tutti te. Che tra l'altro con sta maglietta bianca si vedevano finalmente bene tutti i commenti su Twitch perché sono neri. Sì perché stavano su di lui. L'overlay ed erano tutti su di lui. Nello sponsor Giorgio Armani. Frizzonello. Raga dovremmo aprire una pagina su Instagram. Eminello. Facebook Ads. Ci vuole la partita io. Qui vabbè poi partono le cose così. Anche io ho il dolce vita nero stasera. Brava. Questa è essenziale per essere in Scalers. Nello c'è il bonus dell'estato per la connessione andando larga. Comunque per tutti coloro che sono i Scalers mettetelo nella via che siete i Scalers. Nella via che siete dentro Scalers. Lo potete mettere. E in più mettete come emoticon il Got. Il? Got. L'occhio? Got. Ah il Got. Allora ecco qui Nello direttamente da frizzello. Nello presidente. Che dramma ragazzi questa vita. Dottor Ballarani. Ma è appena iniziata? No è iniziata da un po' ma stiamo cercando di recuperare Nello. Ci siamo. In missione di soccorso per Nello in diretta da Cortina dove c'è una tempesta di neve al momento. Allora vabbè vabbè mentre Nello da Marte ci. Nello da Marte ci. Vabbè comunque cosa stavi cosa stavi dicendo? Io? Nel Nico sì. Di aggiungere alla bio per tutti coloro che sono dentro Scalers di aggiungere all'avvio che sono dentro Scalers e di mettere il Got. Cos'è il Got? Il Caprone. Il Caprone. Perché il Caprone? Perché è il simbolo di chi scala il Caprone. Ah della capra che scala. Della scalata. Della scalata. Sì perché se voi avete visto sicuramente qualche video, qualche documentario. Cioè pareti così. Sì. Cioè ragazzi così. Io preferisco il razzo. Io userò il razzo. Io ho messo il Caprone. Io ho messo il Got. Anche perché è un simbolo proprio non lo so di di arrampicata. Non solo di arrampicata ma di stare al top. Anche i calciatori lo usano. Per esempio il pizzetto fanno così. Non si tagliano il pizzetto quando fanno tipo ogni giornata gol. Perché è il simbolo del Got. Come Ronaldo, Nazaro da Lima, come Cristiano Ronaldo all'Europei. È proprio un simbolo di chi sta andando al top. Verso il top utilizza il Got. Ok vabbè. Ma vi faccio crescere la barba. Tanto sono sei mesi che non la taglio. Sì. Non c'è. Io non sto cercando. Perché Got significa greatest of all time. Ma vedi Fra che sa le cose. Eccolo. Eccolo là. Sallo. Comunque ragazzi. Il più grande di tu. La connessione tutti e due. Ragazzi il pizzetto da Got e l'inchiamabilità. Io sono d'accordo ragazzi. Vabbè. Vabbè. Allora nel frattempo che Nello si connette da Mondello. È bloccato con... Niente Nello. Vabbè è andata così ragazzi. Look da Carabiniere. Eh. Io non l'ho mai capita questa cosa perché il pizzetto è una cosa dell'esercito. I miei ufficiali dell'esercito avevano tutti il pizzetto spermatico. Super pizzettino intorno. Allora. La fotocamera Sony che usi per la diretta è collegata in HDMI ovviamente. E in più non basta ragazzi l'HDMI. C'è pure una pennetta di... Non mi ricordo il brand che serve per collegarla al computer. Ok. Avevo questa qui pure. Che è una Brio Logitech di merda ragazzi. Soldi buttati veramente. 4K per finta. 4K per finta. Modello che può essere molto utile in alcuni casi e in altri casi meno conveniente. I trend... Ah. Questa è una cosa che vi... Su cui vi volevo condividere. Perché io ho iniziato nel gruppo degli scalers appunto. a condividere quasi giornalmente un po' di statistiche di cose che succedono nel mondo del business, dell'e-commerce. Per esempio nuovi trend, nuove opportunità, prodotti che funzionano. E vogliamo proprio creare in realtà, questo non lo sanno neanche i ragazzi scalers, una sezione ad hoc. E abbiamo un appuntamento in realtà al mese per parlare di tutte queste cose, di cosa sta succedendo. Quindi mi piacerebbe raccontare anche a voi in una diretta i trend che stanno crescendo per trovare i prodotti e i mercati più ricchi. Perché magari vi do qualche idea, che tanto io basta, non riesco più a fare nient'altro. E qualcuno di voi si mette lì e magari è una cosa che può essere di interesse. Per esempio avevamo visto tutti i trend sui cuccioli, sui pet che con la pandemia sono cresciuti tantissimo. Oppure i trend sul sonno, che con la pandemia pure le ricerche sono cresciute, tutti i prodotti per migliorare il sonno. Però ecco, non detti così, raccontati bene e vedendo pure dei casi studio, delle robe interessanti. Per darvi un po' di idea su cose che si possono fare, prodotti che si possono scalare. Intanto ho visto che in chat è diventato un capraio. Capra, capra! Eccolo la roba lì, no? Eccoli là, eccoli là. Quello, quello là è il GOT. Fantastico. Jovi, che intendi riguardo il dropshipping digitale? Cosa intende? Dei prodotti digitali, lui intende. Vorrei sapere la Jovi che magari ha sentito sicuramente questa parola da qualcuno e voglio capire ora cosa stanno intendendo, perché magari è qualcosa che noi chiamiamo un altro nome. Allora, allora, farete l'aggiornamento al BCC riguardante il dropshipping digitale, visto che in Italia... Ah, intanto volevo dire a tutti i nostri amici che il billionaire è stato appena aggiornato, cioè appena completato l'aggiornamento del billionaire. Rispondo, rispondo io, rispondo io a Jovi. Ma? Ma? No, voglio sentire prima che cosa dice Jovi, su che cosa è questa, cioè cosa intende. Intende infoprodotti, ha scritto qua. Diva prodotti digitali, intendi infoprodotti. Questi qua diciamo. Dropshipping digitale, però non ho capito che cosa intendono. Allora è sbagliato come dire dropshipping digitale, ma praticamente è vendere infoprodotti, quindi prodotti digitali come pdf, ebook, roba così. Intendeva questo. Ma di altro, dropshipping vuol dire che sono di altri questi prodotti. Eh, di altri, infatti è sbagliato. E allora è affiliazione. No, è anche la creazione di un prodotto, di un pdf, è la vendita direttamente sul Shopee. Ma allora non è dropshipping. Eh, infatti è sbagliato il dropshipping digitale. Però per questo chiedeva Jovi, magari lui aveva un'altra idea di dropshipping, non lo so. Allora Sharon giustamente diceva, ma per una volta si può fare un contenuto strutturato? Beh, no, è molto strutturato, solo che non ve l'ho condiviso. Guarda, hai scritto tutto qui nelle storie di Creators. E poi ecco, un'altra cosa che vedremo sono i casi studio degli studenti del Billionaire. Quindi, questa è un'altra cosa che vedremo in questi giorni. Oggi siamo qui riuniti in questa sede perché? Cioè, tra l'altro io non faccio le storie, abbiamo più persone quando non faccio le storie su Instagram. Vabbè, basta, mi faccio un po'. È strano, eh? Vabbè. Allora, Gian, hanno chiamato un prodotto con il mio nome. Bene. È giusto che sia così. Vi immagino con le mie scarpe ai piedi. In che senso? Cosa pensate? Il drop service, il drop shipping è illegale, bravissimo. L'e-commerce è illegale. Allora, la prima volta che ho aperto un e-commerce, ho aperto un SRL, un e-commerce, sono andato al comune a registrare la mia pratica. Cioè, al comune di Roma, al, non mi ricordo, diciannovesimo, come si chiamano. Cioè, a fare la mia pratica cartacea perché ho aperto un e-commerce, ma come cazzo si fa? Dove vogliamo andare? Io non lo so. Ah, ma attenzione, Nico. Perché ogni tanto la nostra intelligenza artificiale si manifesta. Dov'eri, Marco? Cosa stai facendo? Vero in giro. Mi posso dire una cosa? Qui hanno riaperto, hanno riaperto oggi le gabbie, è tutto aperto da oggi, e io sono qui con voi invece di uscire. Infatti c'è una manifestazione, c'è festa sotto casa sua. C'è il mondo fuori. Vabbè, niente, è andata così, ragazzi. Cioè, sotto casa mia ho appena passato un milione di persone, io sto qui con voi. Vabbè, vabbè. Allora, infoprodotti devi avere le competenze per fare contenuti, è un altro mondo. Giovi. Sì, però non sono fatti da te. Ma se non sono fatti da te, se sono di altri è un'affiliazione. Non è un dropshipping. Se sono infoprodotti di altri. Che mi sono perso? C'è Davide. Ah, beh, buonanotte, Davide. Qui parecchierò. Comunque, io in queste dirette rido come una pazza, ma a sto giro volete prendere appunti e non sto capendo... Volevo prendere appunti e non sto capendo una verga di gotta. Oh, ragazzi. Allora, mi spiace, non riesco ad attivare le notifiche, però abbiamo il buon Crufi, che si è riscritto per il terzo mese. Secondo mese di seguito. Bravo, Crufi. Grande Crufi. Ora riattiveremo pure queste notifiche. Allora. Vediamo, che si dice? Marco, legge un po' di commenti, che io almeno cerco di sistemare le... Dicono che intanto si vede che ti diverti di più qui, che in giro, qui in live. Sì, effettivamente, questo è tutto vero. Poi grande Gianno, tu si... Oh, aspetta che ho fatto un casino incredibile. Aspettate, ragazzi, eh. Ora risolvo questa cosa. Io comunque la capra non la metto come simbolo di skaters, eh. Gatto. Ecco. No, è veramente orribile. È simbolico, è simbolico. Allora, scusate, ma c'è stato un momento di devaglianza. È partito tutto. Sì, perché stavo cercando di accedere a StreamElement. Scusami, Marco, vai avanti, vai avanti. Ora sei di nuovo qui. Allora. Ah, ecco, guarda che sono arrivate maggiori informazioni su questi ebook. Sono ebook che compri, ribrendizzi e rivendi con licenza scritta, però non va. Allora, ragazzi, questo business qui non si chiama Drop Digital Drop Shipping, si chiama White Label ed è un... Anzi, si chiamava, pensa, la prima volta che ne ho sentito parlare, ebook con diritti di rivendita. Cioè, parliamo di questo, che sono dei manualetti di merda scritti da non si sa chi tradotti, peggio, che vendono con la promessa che tu poi li puoi rivendere. E tu in realtà li rivendi e li guadagni rivendendo. È una sorta di pacco... Di pacco... Roba da... Un pacco che passa. Un pacco che passa. Digital Drop Shitting. Questo è proprio Digital Shitting e basta. Esatto. Vabbè, Marco, scusami, stavi dicendo cose. Allora, no, leggevo un po' di commenti. Innanzitutto Clima si fa una bella domanda. Ma delle vostre masterclass c'è un link di affiliazione? Ah, questa è proprio una bella domanda. Cosa dobbiamo rispondere a questa domanda? È che... Non c'è. È che... Non c'è, ma rivendiamo, perché... Ma va, ci chiedono il link di affiliazione dell'Academy da due anni, ma non, diciamo... Cioè, anche influencer e pubblico che hanno pubblico. Però per ora... Per ora lo daremo solo a Clima. No, non lo daremo a nessuno. Mi spiace, ragazzi. Ma è troppo delicato fare affiliazione con la nostra faccia. È veramente troppo delicato. Quindi preferisco che le ads siano in controllo nostro e che se qualcuno fa una cazzata mi incazzo con un ragazzo che lavora con me e non con un affiliato che non so chi è. Allora, le domande sono sempre belle, sono le risposte che non capisco mai. In che senso? Mi preoccupa un po' questa cosa. In che senso non capisci le risposte? Cioè, prova a... Prova a dirci. Prova a dirci. In che senso non capisci le risposte? Vai, Marco. È tutto tuo il... Il dropshitting. È piaciuto come brand. Lo farò vedere. Come nome, sì. Renda alla grande. È passato. Detame comprare Play. Allora, posso dire una cosa riguardo a questo? No. Riguardo al dropshitting. Sì. Allora, praticamente è un buon business. Perché cioè, allora, è un buon business ma non come è stato venduto. Nel senso, è venduto come ebook che tu puoi andare a riutilizzare utilizzando Shopee così da andare a vendere ma in realtà non si fa così. Deve essere trattato come un infoprodotto al 100% e per vendere un infoprodotto hai bisogno comunque di una serie di cose come l'ultima lezione che riguarda l'introduzione al metodo funnel che è all'interno del billionaire. Quello è la base per andare ad impostare la vendita di un infoprodotto. Se lo trattiamo come infoprodotto necessiti di un minimo di metodo funnel. Per questo abbiamo inserito per questo ho inserito quella lezione là. Però io non sono d'accordo nel vendere prodotti cioè, che non stai vendendo... Non prodotti di terzi non ebook però infoprodotto nel senso che una persona può creare un prodotto quindi e impacchettarla sotto forma di infoprodotto sì però ha bisogno di una struttura funnel per andarla a vendere non che fai le ads normali Shopify utilizzi le applicazioni per il digitale buona no Sicuramente non è neanche roba che si vende qua ti chiedevano ma io ho il dubbio che non compra nessuno così a freddo non so se si riferiva Ricky a come ma Ricky è Ricky è all'interno del billionaire Ricky sei all'interno del billionaire allora Daniele va un attimo o ti adoro la postazione video di Gian luci inquadrature ci spoileri cosa utilizzi? vabbè dai dopo ne parliamo vediamo un attimo vediamo un attimo se se riusciamo a capirci con Ricky sì sì sono il billionaire allora Ricky ma hai avuto un modo di testare perché a me sembra strano nel senso tu dici che è difficile andare a vendere prodotti ma di cosa stiamo parlando? scusate io mi sono un attimo perso no perché Ricky dice è difficile vendere prodotti così a freddo non è che è difficile diventa sempre più difficile però se ci sono delle condizioni particolari come spiegate all'interno del corso di un prodotto con determinate caratteristiche di un prodotto che rispecchia determinate caratteristiche utilizzando quel tipo di strategia arriva arrivano le vendite cioè non siamo noi a decidere l'unica cosa che non possiamo controllare è quando una persona decide di acquistare però le persone arrivano proprio grazie alla portata di strumenti come Facebook Ads io intanto vorrei sapere ma c'è qualcuno di nuovo che ci sta seguendo? perché vedo alcuni nomi bravo ci c'è qualcuno per esempio anche Xbox Security Wolf X più o meno it's red passion non voglio sapere come siete arrivati qui pure bravo sembra un'ultima nulla nuovo Davide 02 20 Davide 0 porca miseria e come siete arrivati qui ragazzi? come mai oggi tutti voi nuovi utenti? iscriveteci Kaizen TV dice io ogni tanto vi seguo ma non tutte le sere dai ti perdoniamo ben uguale 8 8 prof io sono nuovo Xbox dice ma già mi conosci ci parlo su IG ok e i fan stavo scherzando dice che ha preso il video in scam però non ho preso cioè non so chi sei chi sei scrivimi così capisco allora come ho preso il video in scam? su Facebook Riccardo ci dice io vi seguo sempre ma non commento mai male Riccardo commenta di più ci fa piacere commenti interagisci interagisci comunque tutti Riccardo in ascolto che come lui non scrivono scrivete tutti Riccardo io sarei curioso curioso io sono qui per colpa del benchmark e di Clara ok allora io ho ragazzi guardate che se iniziate a fare così vi elimino non ho non ho problemi di connessione è che praticamente la mia ragazza di là si è collegata a Netflix o starà giocando online alla Play quindi mi sembra ottimo tra l'altro guarda leggi la domanda di Alex Marco Gian faresti un'analisi del mio primo store ho cercato di applicare più nozioni possibili del Billionaire 2.0 abbiamo una buona una buona notizia per il nostro vabbè a parte che se sei nel Billionaire lo possiamo fare nel Billionaire questa cosa qui sì ma ormai ha postato lo store qua nei commenti ma si sta bombardando di di traffico inutile non ho capito in che senso nel senso che con il pixel si sta bombardando di traffico inutile adesso sul sito e poi non hai la home page hai fatto tutto come se fosse ah sei andato sul sito io non l'ho aperto il sito ok sì l'ho aperto già prima al primo commento ah ok 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 comunque no la bella notizia voglio dire che domenica riprendiamo il nostro format del Marco dimmi dimmi chi sei qua cazzo oggi non sei non sei reattivo a leggere i commenti business x x ray business x ray domenica faremo l'analisi di e-commerce e landing page allora quindi domenica è il giorno allora aprite lo store potreste fornisci crono programmazione con temi precisi così è veramente difficile eseguire si vi arriveranno tutte le informazioni tutte le informazioni io sono qui perché seguo Gian da anni e Nico da un annetto sempre top quali compense studiereste se dovesse ricominciare da zero io vi sento due volte ogni tanto bellissime live dove analizzavi shop e siti si lo facciamo domenica ragazzi comunque dato che oggi abbiamo definito tutto il nostro programma della settimana domani vi mandiamo nel gruppo telegram e magari pure nelle storie di creators su instagram la programmazione per per le prossime puntate quindi per tutto quello che vedremo nelle prossime puntate allora io ora che tanto il buon non ce l'abbiamo fatta avere Nello con noi con Nello oggi con Nello non è riuscito ad essere con noi volevo però dire che come qualcuno aveva sgamato all'inizio della live riapriamo le porte del billionaire anche perché è già una settimana che lo dicevo che stava per arrivare stava per arrivare e quindi però c'è una brutta notizia c'è una brutta notizia una notizia orribile orribile notizia orribile la vuoi dare? intanto prima volevo leggere qualche commento allora Angelo ci dice io ho praticamente seguito da sempre ma non in live perché vi guardo in due per di solito ok ci fa piacere interessante in due per è indifferita grande ok fantastico ok posso vendere boxer con la faccia di spongebob? no ciao ragazzi sono nuovo ci spieghi spiegate se è possibile trovando ovviamente prima un accordo con i rispettivi proprietari di rivendere servizi con uno store shopify ad esempio e quali eventuali app possono facilitare il processo ok ragazzi perché ridi Nico? rido perché sono delle cose no perché sono delle cose così cioè chiedono così delle cose assurde e io scommetto veramente scommetto gliele dice qualche guru no non è che gliele dice qualche guru è che sono intrappolati in questa bolla di dubbi che gli evita di agire e quindi cercano in tutti i modi sistemi che vanno fuori cioè è come un ragionare loro ragionano come il detto non ragionano fuori dagli schemi ma in realtà devi ragionare come se non ci fosse alcuno schema capito non è il ragionare fuori dagli schemi che tu pensi di vendere prodotti altrui tramite le affiliazioni quindi cerchi i sistemi per fare bla 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 cose diverse è una questione che tu adesso hai in testa che questo mondo qua è come se fosse saturo perché ne senti parlare costantemente perché hai capito più o meno quello che è quindi è un dubbio è un circolo di dubbio che tu hai in testa che non ti permette di agire quando in realtà dovresti agire cazzo è vero io la vedo così ma anche nel billionaire ma anche nel billionaire stesso io tipo per esempio vedo molti commenti sotto i risultati a parte il fatto che i risultati in sé che adesso si è scatenato una roba continua cioè ogni giorno ogni giorno ci sono almeno 5 post e di questi 5 post ci sono almeno 2 risultati e ogni volta c'è una motivazione continua e ci sono sempre le solite domande per dire dove vengono ma perché ci sono tutti nuovi che magari non sono neanche arrivati così avanti nel corso che magari vedono questa cosa e dicono cazzo ma allora gli screenshot che vedevo non erano sono delle persone dietro sono veri ma la cosa bella come oggi è successo per esempio dentro scalers che di persone che hanno iniziato adesso a guadagnare e dicevano io lo so che non è niente però finalmente finalmente ho la conferma che si può fare cioè ragazzi questa è la cosa più importante quindi bisogna agire non fermarti in questa bolla in questa ruota del criceto di dubbi di cercare nuove soluzioni quello funziona fallo funziona cioè noi ne siamo testimoni i studenti sono testimoni il gruppo è testimone funziona quindi lo devi fare non stiamo inventando qualcosa cioè non devi inventare altro o cercare la soluzione del secolo non ora al momento perché magari non sei nelle condizioni di farlo però magari un domani quindi devi iniziare ma veramente non ho compreso la risposta ma scommetto anche che altri non l'hanno ferrata anche perché io già vendo su Amazon piuttosto bene è un negozio fisico in ottica omnichannel non ho capito il discorso della bolla l'ho detto probabilmente l'ho detto probabilmente eri nella bolla poi se non sei nella bolla sono contento per te perché questo tipo di di questo questo tipo di domanda viene fatto sempre alle persone che alla fine sono bloccati dal non agire tutto qua non era una critica è Simo da Runner figurati non era super ragazzi le lezioni sul print on demand è la seconda volta che leggo questa domanda sono nel billionaire entrano i billionaire sono nel b è una delle nuove tra l'altro ora se entrate è tutto un altro corso da prima c'è una mega live di Nello tipo di più di un'ora che parla solo del print on demand inserita ma io l'altro giorno ho fatto una live mirata su facebook ads perché nonostante tipo tutti i risultati che stanno arrivando però è giusto che ci siano dei dubbi dei piccoli dubbi quindi ho preferito fare una live perché cioè ridondavano le domande quindi abbiamo fatto direttamente una live in diretta io mi ricordo quando facevo le live mensili sul billionaire le mie erano ok allora questa cosa qui vai a rivedere la lezione 7.3 perché molte volte sai uno se le perde poi ci sta pure molto che tanto è che forse è la cosa che aiuta di più cioè il fatto di dire cioè una domanda specifica io ho questo questa cosa qui è giusta sì no è una Q&A sì sì la è secca io l'ho voluto fare proprio sotto forma di Q&A in modo tale da rispondere al commento al caso diretto in diretta davanti a tutti anche per far capire il tipo di ragionamento perché non è tanto il fattore di fare una cosa copia e colla ma il fattore di ragionare nel modo giusto per far sì che quel sistema funzioni perché non esiste un copia e colla tutti i business sono diversi e copia e colla non c'è allora c'è una domanda che dice Gian quando tiri fuori un tuo libro scritto con l'anima allora intanto digitalization ci ho messo veramente tutto quello che sapevo quindi è proprio scritto con l'anima digitalization quella non so se l'hai letto ma leggilo capirai che più guarda era pensa era 420 pagine tipo ci hanno fatto tagliare 100 pagine fiamme gialla finanza ma non quello che sai ma quello che senti vabbè ma quello che sento non è il momento dai ma fiamme gialla è un po' trolla secondo me già fiamme gialla finanza qui vai leggiamo qualche altro commento allora io ho paura delle due lezioni di aggiornamento dell'afflight marketing da 85 minuti l'una ok apprezzano gli aggiornamenti dei corsi sono contento nemmeno un po' ci chiedono i giubbotti di un scuro per i creatori e ricordiamo che sono gli unici corsi che effettivamente hanno effettuato un aggiornamento gratuito per i già iscritti cioè non è che è stato fatto un'altra iscrizione o un altro corso a parte chiamandolo Billion 2.0 con un altro gruppo c'è una continuità nella cosa c'è proprio un upgrade chi è che ha letto digitalization e ci dà qualche feedback con il commendatore ci diceva non trovo mai che cavolo vendere non so mai cosa può funzionare Ricky ma Ricky non so mi sembra che ti abboni ogni settimana come fai ad abbonarti così tante volte sei abbonato con Twitch Prime per sei mesi al momento a tre mesi di fila cioè io penso che Ricky è uno dei nostri fedain grande Ricky allora Valepex è chiuso in camera il giorno fa soldi nella notte li conta Ricky lancia soldi l'ho letto l'ho letto ma lo leggerò sicuramente di nuovo allora ragazzi il billionaire lo riapriamo abbiamo fatto una riunione oggi perché dato che stiamo aggiungendo altre cose rispetto alle ultime che abbiamo aggiunto nell'ultimo aggiornamento appunto di settembre ottobre e a gennaio faremo cioè già da dicembre ma a gennaio ci sarà un altro grande aggiornamento importante e allora quindi la brutta notizia qual è? la brutta notizia è che dovremmo aumentare il prezzo questa è la brutta notizia la quota di iscrizione si può dire già che sarà l'ultima apertura questa sarà l'ultima apertura del 2020 assolutamente probabilmente l'ultima a questo prezzo quindi si però alla fine abbiamo pensato di fare l'ultima quindi l'ultima del 2020 senza alzare la quota di iscrizione quindi da questa sera non so se è stata già riattivata la pagina Marco si si ok quindi da questa sera magari vi mando il link su telegram abbiamo riaperto le iscrizioni per una settimana anche perché abbiamo abbiamo aumentato le ore della masterclass quasi per tre stiamo facendo delle live all'interno del gruppo ne faremo altre e in più con Nello ci stiamo organizzando con Nello e con Gianni di inserire quelli che sono altri argomenti specifici quindi questa è l'ultima volta che ci sarà questo prezzo perché la masterclass è quasi triplicata a livello di informazioni da trasformare in competenze ne verranno aggiunte ancora altre allora domanda gli aggiornamenti continueranno a essere gratuiti per chi entra diciamo in questo aggiornamento si avrà tutti gli aggiornamenti gratuiti poi dal prossimo stiamo pensando di mettere di mettere anche il billionaire in con solo un anno di aggiornamento perché comunque è veramente una fatica ragazzi tenerlo attivo per tutti anche chi si è iscritto tre anni fa che insomma ha poco senso anche a livello imprenditoriale che vengano rilasciati continuamente nuove competenze poi fatte anche da altre persone gratuitamente ma anche perché ha un costo è un costo ma anche solo cioè è tutto un costo la piattaforma è tutto un costo è tutto un costo tenere anche le strutture attive le persone che fanno nuovi contenuti le persone che fanno moderazione l'assistenza è un'azienda chiaramente quindi però abbiamo deciso per il 2020 di farlo compreso quindi con le stesse condizioni aggiornamenti gratuiti allora digitalization mi ha dato la consapevolezza che il mondo del lavoro offre nuove opportunità in chiave digitale che sono in grado di riabilitare anche lavori obsoleti ottimo questo Toti mi fa molto molto piacere perché era uno degli obiettivi che ci siamo dati col libro cioè riuscire a far vedere una istantanea una fotografia di quello che sta succedendo dove di solito non vediamo dove dove di solito non ci sono le telecamere puntate della televisione di cui i protagonisti le storie di cui i protagonisti in genere non sono su un mattino 5 sul pomeriggio 5 non sono dalla d'urso non sono al telegiornale non sono sui giornali perché sono storie di persone normali che tramite il digitale sono riuscite a trovare una propria dimensione lavorativa e tra l'altro ci sono storie di persone tipo i ragazzi di Tlon che quando li ho messi nel libro quando erano nel libro non avevano minimamente tutto lo standing con adesso che sono sempre in televisione fanno live con i più famosi personaggi dello spettacolo italiano sono dei ragazzi che hanno la mia età parlano di filosofia io quando li ho scoperti per la prima volta non so se avete visto il viaggio con Tlon con Andrea con Andrea sono Maura e Andrea lui si chiama Andrea e quando inviate il live Giorgio ora lo invitiamo quindi insomma per raccontarvi che nel frattempo poi loro hanno continuato sono continuati a crescere hanno continuato la loro scalata e ancora insomma stanno ottenendo grandi risultati quindi era un po' questo l'idea di digitalization che è un po' questo anche tutta l'idea che c'è dietro alle nostre talks cioè raccontare quello che di solito non viene raccontato quindi quello che di solito è underground portarlo allo scoperto e quindi sono contento allora quando invitati in live Giorgino Giorgino al più presto lo inviteremo in live volevamo portare un po' di cose che stavamo facendo ma allora l'ho letto ho scritto un botto di appunti penso che lo rileggerò il problema è mettere in pratica perché nella mia città nella mia cerchia di amici sono praticamente l'unico che si interessa a queste cose forse ho convinto un amico ma gli altri sono troppo flippati con i videogames anche io ma cerco anche di studiare nel mentre però boh da solo fatico a trovare lo spunto giusto per mettere davvero in pratica le cose guarda lo sai Daniele che questa cosa qui che tu hai scritto è esattamente la pietra fondante di scalers cioè scalers nasce dalla solitudine da cioè io a ogni ora del giorno della notte oggi abbiamo improvvisato siamo stati live su scalers non so se c'è qualcuno dei nostri scalers abbiamo fatto un caffè sì ci siamo presi un caffè insieme allora infatti dicevano la magna ma era prevista era programmata questa cosa sì no non era programmata qualcuno era andato in panico perché poi magari hanno visto le tue slide sull'email marketing quella iniziano a scrivere iniziano a scrivere ma non mi è arrivata la notifica sì sono andati un po' nel panico perché giustamente hanno aperto l'anno visto cavolo ballarani i maiolini in diretta poi aprono là lo schermo c'è Gian che fa vedere delle slide con delle strategie di email ma che succede sai perché c'è stato un ragazzo Giuseppe mi pare si chiama in scalers che io ho fatto la prima lezione sabato scorso e nella prima lezione avevo fatto le slide sull'iPad e poi avevo messo il pdf e lo modificavo no avevo messo il pdf e lo proiettavo e poi facevo i disegnini con il mouse e lui mi ha detto guarda che se ti scarichi questo software puoi trasmettere al computer e quindi che bello oggi ho fatto tutte le mie lezioni all'università con il mio disegnando a mano libera sull'iPad che è una cosa meravigliosa il motivo per cui l'ho comprato non ho nessuna app installata su quell'iPad l'ho preso solo per poter fare le slide e finalmente lo posso usare e quindi per il pennino per il pennino che ho fatto il pro per il pennino bambino gioioso esattamente ero felicissimo ragazzi allora devo dare un feedback in voi esiste una grande esperienza nell'organizzazione dell'attività anzi no prima di leggere questo commento volevo rispondere a questa domanda che poi giustamente qui come ti chiami Fiamma Fiamma Gialla che dice si chiama nichilismo questa cosa che dice Daniele allora in un certo senso la solitudine è importante e fondamentale in un proprio percorso perché comunque c'è quel momento in cui realizzi che se vuoi fare delle cose diverse dagli altri sei da solo soprattutto se vuoi fare una scalata molte volte sei da solo perché la maggior parte delle persone che abbiamo intorno non è semplicemente interessata a queste cose quindi ti ritroverai da solo e il momento da solo è anche un momento importante perché ti ti mette cioè ti mette ti mette davanti a te stesso finché sei con gli altri non hai mai tempo per 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 essere davanti allo specchio e guardarti e vedere i tuoi limiti vedere dove vorresti arrivare vedere le cose che vuoi migliorare ti mette a nudo ecco come dice Aristotele che cito sempre Aristotele che in realtà Aristotele è uno stracciato ma Aristotele è 54 e poi il nome è azzeccato perché è saggio è saggio è saggio la solitudine è il top per me ragazzi senza quello è difficile concentrarsi quindi assolutamente vi consiglio di fronteggiare la vostra solitudine quindi prenderla proprio di petto e affrontarla affrontarla che può essere annoiarsi può essere avere paura può essere combattere contro le distrazioni perché quando siamo da soli magari ti metti a giocare perché hai voglia vorresti fare qualcosa poi ti distrae vorresti fare quindi affrontatela ragazzi e questo è proprio una delle cose che arrivo Nico ho visto il tuo ditino sollevato ora arrivo è proprio una di quelle cose che cioè o l'affronti oggi o prima o poi l'affronterai e sarà ancora più brutto perché oggi l'affronti per raggiungere un obiettivo se no ti troverai ad affrontarlo per combattere una grande difficoltà che magari ti è piovuta addosso quindi questo questo dall'altra parte ecco dall'altra parte c'è da dire che è chiaro se la solitudine da una parte serve dall'altra avere un gruppo di persone con cui confrontarsi che siamo pochi ma buoni anche qui cioè un gruppo di persone con cui condividere i propri risultati un gruppo di persone con cui da cui imparare con cui scambiarsi punti di vista questo è fondamentale e devo dire i risultati che ho ottenuto io all'inizio sono stati anche grazie al confronto con gli altri all'inizio è stato tramite la lettura di libri corsi erano tutti al tempo ti vendevano gli ebook 500 euro in un ebook poi corsi e poi persone quindi altre persone con cui ho condiviso punti di vista e ho imparato cioè ho imparato anche diciamo a superare dei miei blocchi quindi da qui nasce proprio l'idea di scalers l'idea del billionaire che c'è una community eccetera va bene ragazzi eccomi che volevi dire Nico? allora io volevo dire di per quanto riguarda questo disagio di sfruttare il fatto di sentirsi a disagio non solo della solitudine ma invece di uscire quando ci si sente poco motivati di uscire e di vivere il disagio che si ha fuori con gli amici o comunque il disagio di quello che ti circonda proprio di viverlo e di pensare che effettivamente tu non vuoi più quel tipo di vita e pensare invece quando si è da soli quando si è poco motivati e dire a se stessi lo faccio perché non perché hai bisogno di motivazione ma proprio per il fattore che dici qual è l'alternativa l'alternativa è una vita normale quindi sono due le cose o ti butti a capofitto cercando la motivazione di te stesso e vivendo il disagio di fuori oppure l'alternativa è vivere quella che è una vita normale che non è un male per carità però è una questione di scelto cioè meglio scegliere una vita normale coscienziale dice Sharon ma è giusto ma lo so in tutta è una temprata Nico che cos'è una vita normale normale per modo di dire nel senso normale è come intesa come ordinaria quindi lavoro casa amici lavoro la cosiddetta ruota del criceto cioè non è che anche noi abbiamo la ruota del criceto però la nostra routine è totalmente differente da quella normale orari totalmente differenti soddisfazioni differenti cioè e poi è un crescere continuo non si sta mai nello stesso punto quindi io dico quando si è fuori per esempio dice Sharon la solitudine mi ha attemprata è vero ok la solitudine ti ha attemprata perché fuori tu vivevi quel disagio quindi hai preferito restare da sola quindi bisogna viverlo il disagio bisogna capire che effettivamente non si vuole quel tipo di vita prima di arrivare ad essere soli per poi trovare la motivazione in se stessi per crescere però comunque la solitudine è una cosa che uno deve imparare a fronteggiare secondo me cioè a prescindere da tutto perché anche cioè una persona che non è in grado di stare da sola che non impara a stare da sola sarà un peso all'interno di una community questo voglio dire quindi la community deve essere un qualcosa proprio una community appunto di pari che è in grado appunto di darti una mano dove tu non arrivi di vedere le cose di essere passata dove tu stai già passando e questo è fondamentale però poi ogni percorso è un percorso che uno fa individualmente e ogni sera uno va dormire sì la community viene dopo come? dico la community viene dopo aver fatto questo tipo di process ma anche insieme cioè nel senso anche prendere ti dico anche entrare in una community cioè oggi ognuno di noi comunque sta a casa da solo ok ognuno di noi siamo tutti a casa da soli e però siamo insieme virtualmente quindi in qualche modo c'è sempre questo elemento dell'essere dei solitari cioè essere più solitari di altri ed è proprio è obbligatorio in un lavoro come il nostro comunque poi io sono uno per esempio che cerca sempre di fare le cose in gruppo perché proprio mi piace fare le cose con gli altri e quindi non ho cioè tutte le mie società che hanno funzionato ho sempre avuto dei soci da solo non sono mai stato non ho mai fatto non mi andava proprio di fare le cose da solo poi magari comunque ti ritrovi nella società essere tu che porti avanti tutto quella è un'altra sensazione cioè ho sentito soliti perché magari ho altre persone che dovrebbero fare cose però alla fine cioè se non ci penso io non lo fa nessuno oppure se non intervengo perché sono l'amministratore di quella società il CEO di quella società e quindi anche se ho dei soci poi alla fine io ho quelle responsabilità come magari Fracela sulle società in cui lui è amministratore quindi questa cosa qui della solitudine è una cosa che si impara pure a convivere con il tempo però è un qualcosa che io vi dico ragazzi abbracciatela non abbiatene paura poi questo si supera anche avendo una community perché ovviamente c'è un altro discorso da fare su questo ragazzi non voglio diventare palloso su questo argomento però è veramente di un'estrema importanza perché se voi vi sentite che siete in un gruppo di persone e non ci state bene in quel gruppo voi dovete abbandonare quel gruppo di persone cioè mi spiace dirlo in modo così diretto ma se non state bene in un gruppo di persone con un gruppo di persone anche se ci siete cresciuti insieme anche se ci avete condiviso tante belle cose magari è il momento di cambiare gruppo ok quindi questo mi spiace sono sono andato dritto dritto proprio gamba tesa ed è una è una cosa pure difficile da dire perché poi sembra uno stronzo no ah tu vuoi far lasciare gli amici no non è questo finché voi avete piacere e vi dà valore passare quel tempo bene ma nel momento in cui voi ne soffrite di questa cosa qui perché non vi sentite capiti perché non vi sentite cioè vi sentite io mi sentivo che stavo perdendo tempo mi sentivo veramente a disagio in alcune situazioni e pensa che quando vi racconto questa storia 18 anni finisco la scuola militare quindi io a 15-16 anni parto da Roma vado a Milano inizio a fare la scuola militare quindi conosco tutta una serie di nuove persone e vivo con queste persone sconosciuti mai visti prima vivo tre anni H24 per tre anni condivido gioie dolori difficoltà situazioni paradossali e quindi tante emozioni e ci cresco insieme dai 16 ai 18 anni 18 anni torno a Roma torno a Roma prima cosa che faccio rientro in contatto con i miei amici dei primi due anni del i primi due anni del liceo perché i primi due anni del liceo li ho fatti a Roma poi ho fatto il concorso non l'avevo detto a nessuno perché ero sicuro di non passarlo culo fortuna vita caso succede che lo passo e finisco a Milano quindi io in questi tre anni avevo perso tutti i miei amici però li rischiamo li risento ok usciamoci loro andavano in questo posto che si chiama il curvone se c'è qualcuno di voi ragazzi vi voglio bene non me ne vogliate per questa cosa che sto dicendo c'era il curvone al Torrino a Roma e andavano questi miei amici in questa via chiusa io vado con loro la prima sera e per quanto erano super simpatici cioè proprio li adoro simpaticissimi però non mi sentivo lì mi volevano far fumare una canna io non volevo fumare le canne giocavano a calcio contro il muro a me non mi piaceva quella cosa lì cioè mi sentivo proprio non mi sentivo a mio agio non mi sentivo e quindi da questa cosa qui è iniziate le canne sono buone quello l'ho capito dopo che le canne non sono il male che io pensavo che fossero perché un giorno parleremo pure di droga ci dissociamo ci dissociamo ci dissociamo ci dissociamo la droga ecco la droga no però in realtà sarebbe a fare un discorso molto approfondito sulle droghe perché tutto quello che è perché tanta percezione cioè volevano farti cadere nel tunnel ma sai quelle cose tra amici dai fumavano bloccato dai adesso fumavano questa canna così mi sono ribellato sono scappato piangendo sto scherzando non sono scappato piangendo però comunque è finita la mia votato per la depenalizzazione hanno votato per la depenalizzazione della tabella allora guarda una cosa incredibile è che in America proprio in concomitanza con queste elezioni hanno votato tutta una serie di depenalizzazioni non so come si chiamano dei reati di droghe e quindi già in alcuni stati è legale la cannabis in alcuni stati adesso live eliminata bannati eccetera ma addirittura addirittura hanno in alcuni stati hanno legalizzato degli allucinogeni negli Stati Uniti d'America cioè reati per cui c'è la gente che è morta in carcere per cui è finita in carcere forse ci sta ancora in carcere ok quindi tutto questo mondo e tutta anche la demonizzazione che è stata fatta delle droghe sicuramente io parlo degli allucinogene di quelle leggere perché poi ci sono droghe pesanti che veramente sono è il demonio che se ti prende proprio non ne esci ti fai il segno della croce e via che roba che non proverò mai però ci sono un altro tipo di droghe su cui si potrebbe dibattere io non sono sicuramente esperto però mi sono informato tanto anche dal punto di vista scientifico e quindi comunque è un dibattito interessante di cui io non mi voglio fare portavoce perché non c'è il segno di questo ok famosi funghetti bro vabbè comunque tutto questo che stavo raccontando di questa mega digressione sui cannoni che mi volevano far fumare sta cazzo di canna che pensate un mio amico alla scuola militare è stato cacciato perché si era fumato una canna quindi pensate alla scuola militare esatto pensate quanto era stato incastrato uno aveva fatto la spia gli avevano fatto gli esami e avevano trovato l'erba quello che era la cannabidolina nell'urina e quindi l'hanno cioè non è che l'hanno costretto a a uscire dalla scuola militare era mio fratello praticamente ancora lo vedo lo adoro no mio fratello mi ha detto cosa è successo inteso no era mio fratello ho detto come fratello non balla white peer però ho capito ho capito un amico fraterno comunque le prossime live su porn hub come dell'email per evitare le censure esattamente esattamente la prossima live su porn hub vabbè comunque alla fine cosa succede cannabinoide detto CBD Nico esperto sul tema ci sta ci sta l'hanno buttato fuori però così vabbè comunque rientro e io mi son fatto tanti di quei giri di comitive proprio le comitive si chiamavano a Roma non so come si chiamano da voi però praticamente giravo da un gruppo a un altro facevo qualche uscita con qualcuno sono durato un mesetto con qualcun altro con quelli dell'università poi con i miei amici amici delle elementari gli amici del mio migliore amico ho girato i tutti niente alla fine sono rimasto solo come un cane ragazzi io passavo i weekend dentro casa a lavorare sui miei progettini a leggere i libri ma non perché perché semplicemente non avevo trovato nessuno con cui condividere le mie cose like a dog on the table vabbè le compagnie esatto queste robe qui e quindi niente è andata così finché poi ho iniziato a trovare piano piano persone su internet persone che condividevano la mia stessa passione persone che facevano molti più soldi di me io dicevo cazzo conosco gente che fa i soldi per me era una cosa tipo una Marco ti ricordi ne abbiamo parlato di questa cosa qui quando parli per la prima volta con persone che fanno i soldi dici ma queste sono persone normali beh beh è una cosa molto la prima cosa che la prima sensazione che hai quando incontri persone che non si è abituato è proprio questa che dici sono persone come me cioè magari hanno hanno sono un pochettino più grandi hanno fatto più anni di vita ma di base non sono dici oh porca miseria questa cosa è impossibile sono sono alieni no no sono persone che hanno anche i tuoi stessi dubbi poi magari se uno li conosce hanno i stessi dubbi che tu ad un livello diverso quindi magari tu hai dei dubbi per quanto guadagni tu lui avrà dei dubbi per quanto fattura lui ma capisce che stai proprio due persone che hanno bisogno della stessa cosa da qui per esempio anche l'idea centrale di scalers che è il confronto poi che quello il gruppo dei pari è una cosa dove che siano tutte persone un'appartenenza un siamo animali sociali sì poi volevo fare un appunto ne un po' vai intanto io sto leggendo mi stanno facendo volare non ce l'avete una foto di Marco va vi metto la cam oggi se volete no Marco ma che siamo pazzi così gli hai regali senza perché Black Friday senza hype no no perché sto stai preparando sì sì Marco mettila un attimo che ti vedo solo io adesso Holy Fans vado attivo attenzione che aspetta aspetta no 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 aspetta che è arrivato pure Fra ovviamente senza ciao 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 vai Marco metti la cam fammi vedere no incredibile incredibile ho anche il set no ragazzi non ci credo non vedo Marco no 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 secondo me noi non possiamo non possiamo rompere questa magia Marco ti giuro Marco è nudo con le mani in tasca no ragazzi non ci credo ce l'ho qui ragazzi Marco ce l'ho qui che dobbiamo fare si vedono i circuiti Marco no si vedono i circuiti secondo me non hanno ancora sistemato bene qui tutta la Nello è sparito perché piove ragazzi piove Nello sparisce no Marco Marco è seduto senza sedia deve rimanere anonimo Marco nudo con le scarpe della lina non so Nello è sparito perché con Marco toglie tutto l'hype no ragazzi io non ce la faccio a far vedere Marco non si fa a vedere Marco no ragazzi io non ce la faccio a far Marco incredibile ma che cos'è cosa hai preso una webcam una no so col computerino e ha la sua webcam dentro e l'hai attivata ah perché ti sei tagliato i capelli cosa è successo no perché così sto sto in albergo non si può andare perché hai iniziato a prendere le pillole per allargare il pene ormai da due settimane e si sente più a suo agio a venire in live esatto fra è un fine psicologo ragazzi io ce l'ho qui Marco non so se me la sento di farvelo vedere che dici ma che dici fai un sondaggio fai un sondaggio no o no bello si taglia di capelli Marco no no o nello così proprio no o nello no o nello no o nello allora msharon chiede che pillole dai che sto facendo i regali di Natale fra consigli la stessa ma guarda io ormai sono fuori dal giro perché raggiunti 35 ho smesso di prenderle però so che Nico ultimamente ha iniziato quindi sicuramente si io ho aperto uno store ho aperto uno store allora ragazzi sta vincendo nello ma io non ce l'ho nello qui 35 beh Marco ha 55 anni me lo dico eh io sono un po' anziano Marco Marco quando lo incontri ti dà tipo l'effetto quando giochi a World of Warcraft e giochi con una bella elfa e poi scopri che ho un quarantenne sovrapposto bravo metti la telecamera che sennò non posso mettere Marco no sto colorando non ho voglia stai colorando no io non posso mettere in live se tu sei solo Marco può essere in bianco e nero in nero e bianco Nello Nello sta in chat allora esco aspetta che esco dove vai? se non puoi metterla per colpa mia esco ma va adesso scherzando basta rimaniamo in tre con il nero che è quello proprio orribile allora ragazzi siete pronti? è un po' razzista questa cosa che hai detto però non dire sta cosa che poi Twitch ci crede non so che stai scherzando allora il nero tutto nero sfondo nero ragazzi allora dai vabbè vi faccio vedere Marco siete pronti? adesso Marco ti odieranno tutti lo sai vai vai eccolo Marco qui dietro oh mio dio oh mio dio ora devo abituarmi che sto in live grazie fiamme oh mio dio io non seguo moda la mia moda sono io allora Marco un paio di consigli dettati dall'esperienza non ti grattare poi annussare le dita non scaccolarti ok se hai qualcuno intorno ricordati che sei in live ok grazie Fra che di solito mi scaccolavo sempre mentre vi ascoltavo ma adesso adesso non puo più adesso non puo più vai tranquillo tanto tempo tempo due live e ti abito l'hai sentita questa? ma quanti anni ha a scaccolarti in live è sia giovane che grande se li porta bene sono 55 anni non ci credo me lo immaginavo completamente diverso vabbè basta ragazzi ve lo tolgo Marco è stato bello io bello io pensavo fosse un'intelligenza artificiale e non mettere le dita nelle orecchie anche io propongo un full screen solo su Marco si se lo merita Marco eccolo qui ma è impassibile come la C comunque sì perché tanto vi vedo indifferita quindi non so i vostri zoom non ci vedo indifferita in che senso? no perché su Twitch va più lento quindi segui commenti ah tu stai guardando da Twitch chiaramente sì sì ok vabbè ragazzi allora io direi che Marco e Reale hanno subito clipato ciao Marco grandissimo si è abituato ad essere un'intelligenza artificiale me lo immaginavo pelato sì questa è colpa di Fra che manda in giro le voci che c'entro io scusa che ti dà la colpa a me che spettacolo Marco is not impressed no Marco non è mai impressed vabbè io oggi voglio farmi un'ora di live siamo già un'ora e mezza quindi allora Marco raccontiamo cosa faremo in questi giorni allora in questi giorni faremo delle dirette che abbiamo chiamato e-commerce startup ok quindi una serie di dirette per cercare di dare un percorso dalla un percorso ABC o come piace dire a Nico dall'A alla Z dall'A al business dall'A al business ecco già ne ho presto per l'aperto però va bene basta sto morendo di caldo ragazzi quindi abbiamo pochi ospiti in programma si e sono piaciute molto le live dell'altra volta con i ragazzi poi abbiamo una diretta sui trend quindi su cosa vendere cosa va di più e poi abbiamo una diretta sui primi passi quindi come avviare tutto quanto i modelli di business perché magari abbiamo visto tanta gente anche nuova che magari molto interessata a questo mondo ancora anzi se in chat ce lo vogliono far sapere quanti di loro sono interessati a questa cosa perché come direbbe Nello se non vi interessa non la facciamo quindi se vedete in chat si vogliamo un corso vogliamo questo corso e-commerce questo e-commerce startup se no ragazzi hashtag hashtag dall'A al business dall'A al business vai a business il giallo a me mi sbatte ok io sono interessato a che lavoro fa Marco Marco fa l'intelligenza artificiale io faccio il voice over così il voice over si lo voglio dall'A dall'Alfa io non me lo immaginavo così lo sapete che nemmeno io prima di stasera ma tu l'avevi mai visto Nico esatto io non l'avevo mai visto però poi ho indagato avevo indagato no no e io ti ho trovato ma chi è questo? Nello mi ha visto 10 secondi in tre mesi di collaborazione ma lui questo è Marco ma mica è Marco sì è Marco ma è Marco tempo fa ma questa è una delle forme poi esatto è una delle forme di Marco questa è al 13% della sua forza qua quando era 4 anni fa 5 anni fa no di più di più di più e non ha mai più messo una foto ragazzi cioè pensate pensate come ma sei senza microfono buono oggi Marco è bravo sto con le cuffie quindi è in hotel è in hotel che si portava la staffa dietro si portavi tutta l'attrezzatura come è che si chiamano il sono Marco tra quanto arriva il cliente quanto arriva il cliente no ma io prendo solo signore over 50 quindi adesso il tempo che arriva non ho fatto discriminazione né di sesto né di età ho fatto solo l'orario così ci regolavamo quando arriva ve lo dico sentite il citofono sì come classico da film allora vediamo mi è venuto in me una scena orribile allora siccome fate un cammino su come scalare è andato giù il messaggio mi chiedo se hai dato un feedback positivo o negativo di come procedere insomma che dobbiamo fare in che senso un rago forse mi sono perso qualche messaggio allora è una forma primitiva di Marco quella sì questa è la forma quella buona la terza evoluzione intanto stanno entrando nuovi amici ciao nuovi amici ah il link per il billionaire lo metti in chat o me lo mandi ok ragazzi quindi da oggi sono aperte le iscrizioni al nuovo billionaire chiaramente se siete già per l'ultima volta per l'ultima volta queste condizioni se siete già nel billionaire faremo una live in settimana in settimana vi annunceremo la live perché ci sono delle belle svolte anche per voi quindi tra l'altro faremo questo nuovo upgrade gratis per tutti non solo quelli che sono entrati da settembre ma pure quelli che sono entrati anche due anni fa quindi dall'inizio avrete tutti quanti comunque il l'upgrade for free ah eccolo qui grazie marco sai che possiamo metterei lo rimetto pure io che magari no niente non va perché non prende creators.academy come un link forse vabbè ragazzi copiatevi il link e andate sì ma se io ci clicco sopra mi parte mi parte la landing quindi funziona il link vabbè giusto eh sì funziona 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 da qui sì sì funziona sull'iPad basta che clicco ah no perché io sono su OBS siete su OBS non funziona va bene perfetto ragazzi allora lì avete il link e poi vi mandiamo pure su Telegram manderei pure quello per parlare se volete avete delle esigenze particolari quindi modalità di pagamento o domande dubbi vi faccio parlare con uno dei tutor così parlate fa tutte le vostre domande vi aiuta e se è per voi vi potete iscrivere indirizzo allora Forbos 90 ci dice sera ragazzi ma per me che mi sono collegato solo ora volevo sapere di cosa avete parlato stasera grazie grande Sergio abbiamo parlato di un po' di cose vuoi fare un recap per il recap migliore Sergio che ci è collegato adesso il recap migliore è che vi è andato a vedere la differita due per come ci consigliavano gli utenti domani non perdete niente comunque la notizia più importante è che abbiamo riaperto il billionaire e praticamente è l'ultima apertura dell'anno quindi questa è la cosa più importante e che stiamo per lanciare una serie di dirette le prossime dirette saranno dedicate interamente al mondo e-commerce con un programma dedicato allo start-up quindi i primi passi storie e casi studio che bella cosa top abbiamo parlato di capra e di Marco si è di scalare abbiamo parlato ah Nico proponeva la capra come simbolo di scalers è stata bocciata subito non si sa non è stata non è stata bocciata è dittatura non è stata bocciata non è stata bocciata non è stata bocciata ricordi a furor di poole tra tutte le masterclass quale è reputata la più croccante tutte Alex vabbè ho smesso fiamme gialle ho smesso Marco con quella roba dimmi Nico tira sulla tua felpa faccio un po' vedere qual è la masterclass più croccante vabbè ragazzi Nico ce l'ha scritto sulla maglietta la sua vabbè ma Nico è un po' di parte Nico è troppo di parte perché ci insegna secondo me la più croccante è quella che stai per acquistare ok perché è stato è stato il primo in assoluto in ogni cosa mi ha sverginato questa masterclass in che senso stava andando bene poi no nel senso che cioè per farmi capire no nel senso è stata quella che mi ha aperto poi al resto c'è stata la prima in assoluto che poi mi ha aperto il resto è stato il battesimo capito tutto da lì è partito ma la felpa non c'è per noi chiede buteleto eh no no eh no non c'è perché è stata un'edizione limitata che abbiamo fatto due anni fa quando abbiamo lanciato il billionaire ma soprattutto perché a differenza dell'affiliate che è illegale solo nei meme quella felpa è illegale nel mondo reale che senso è illegalissima poi la venderò fra vent'anni all'asta no no è vero non le possiamo più fare non so se è una cosa che volevi raccontare non le vogliamo più fare doppi sensi sempre non potevate fare titolo più clickbait ragazzi l'e-commerce è illegale e oggi abbiamo spiegato perché è illegale se voi siete persi dovete rivedere tutta la live esatto Alex dice che le più croccanti per ora sono BCC e Social Formula per lui ok beh comunque Social Formula io ci ho messo tanto del mio sapere BCC è una strada per per monetizzare con l'e-commerce quindi molto molto dritta va lì a quell'obiettivo a un sacco di casi di successo ragazzi che fanno infatti la live è iniziata da questo vi ho raccontato un trigger che mi è partito da cui ho detto vabbè dobbiamo riaprire il billionaire il billionaire sarebbe billionaire con club che è la nostra master in e-commerce il master in e-commerce e mi è arrivato il trigger perché ci sono stati questo è successo ci sono stati i risultati di molti studenti che hanno scritto cioè che vi ho fatto vedere all'inizio della live poi ve la potete recuperare mi hanno fatto leggere il commento di Ricky ma a Biotore e loro amiche subito mi è venuta in mente quella richiesta di iscrizione al billionaire con la ragazza che diceva no non sono iscritta però siccome vengo lì in vacanza vorrei sapere il programma di quest'anno mi fa ridere grazie che hai interrotto il mio discorso serio per sta stronzata che mi hai chiesto comunque Marco come ride in modo composito non ce l'avevo sì sì è impressionante non ti vedevo con lo schermo nero che sei molto composto comunque allora volevo dire che ho visto che diceva qualcuno Alfio Bardolla con la felpa del billionaire sì Alfio è stato uno dei primi che l'ha presa assolutamente sì no ma c'è un sacco di gente nel mondo della formazione con i nostri prodotti in serie limitata del billionaire ne erano spaccato perché poi effettivamente li abbiamo li abbiamo fatti in serie limitata del giante ah ma sì ma poi basta abbiamo fatto un pezzo uscita unica ogni volta e basta e chi non ce l'aveva ovviamente ne potevamo ne potevamo produrre altre ma proprio per scelta non l'abbiamo fatto quindi queste felpe non sono più disponibili dovevate iniziare prima sono sconvolta le storie i briatori l'altra sera non lo seguo più Flavio che ha dato di matto quest'estate volo Alfio col golfino arancione alterna t-shirt gialla beh anche lui bello bello vedi a leggere i commenti in diretta non leggere prima mi inculano proprio stava prendendo un inganno l'ha messo alla fine l'ha messo alla fine così a tradimento e poi ha catturato con vabbè ci fa ridere anche per questo vabbè ragazzi allora prossimo appuntamento non è domani che io teoricamente dovrei uscire se non esco magari facciamo la live che ho un appuntamento preso da da tempo in memore la facciamo dopo domani con dopo domani con un nostro studente del billionaire che ci racconta un po' le sue avventure e i suoi risultati quando ho visto Marco per la prima volta ho avuto la stessa reazione di quando ho visto il doppiatore di George Clooney lo prendiamo come un complimento dai ma che cazzo di film che vi fate ragazzi io veramente sto volando allora sembra un po' Wolverine Marco ok non uscire che ti portano in quella via chiusa quella era a Roma ragazzi ora sto a Londra lo studente Antonio noi ne abbiamo anche altri però buon tentativo che cosa no ci chiede se è lo studente Antonio no è uno studente che non conoscete ma poi vi riporteremo pure i nostri studenti storici che qualcuno chiede di Giorgino qualcuno chiede di Antonio qualcuno chiede di Giuseppe perché forse non lo sapete ma Giuseppe per un certo periodo insieme pure a Paolo io me li sono portati in live che sono i due che ho fatto vedere gli screenshot inizio della live me li sono portati in live per dare assistenza sia al billionaire che all'affiliate ecco perché mi sono trasferito a Londra un giorno vi racconto perché mi sono trasferito a Londra è stato un dramma totale che ho vissuto e poi me ne sono andato mi raccomando con Marco con lui che vi dà i ruoli qual è il tuo ricordo ah si ormai in scalers sono famoso così immagino quello che dà i ruoli ti do aspetta che ti do i poteri Marco a scuola copiavi o facevi copiare? bella questa domanda copiavi o facevi copiare? facevo copiare bravo ah ok perché purtroppo studiavo tornassi indietro dò questo messaggio positivo ai giovani non studiate un mese che non faccio palestra ho perso pure tutti i miei no Marco non dire queste cose anch'io ero uno che faceva copiare e ragazzi studiate lasciate copiare vabbè ok per pagare meno tasse no se no andavo a Dubai allora nel caso Armstrong non è andato sulla linea ci facciamo il nostro setup e trasmettiamo come Marco? è una bella sponsorizzata tu a Dubai fa notizia ma ora ragazzi mi trasferisco a Dubai ve lo dico sono rotto di pagare le tasse vogliamo parlare un attimo della Brexit già Lu cosa succederà nel 2021? eh sono cazzi sapete perché? perché non hanno fatto accordi economici con l'Europa quindi pure vendere in Europa non ci sono accordi quindi è come se fossimo un paese extraeuropeo a tutti gli effetti quindi vigono le stesse leggi in cui che vigono se tu sei extra EU comunque se vuoi più informazioni vai sul sito gov.uk allora qui c'è King Herkberg ragazzi ho una paura fottuta di aprire la partita IVA perché? in che senso? non l'aprire King Herkberg come? in che senso? in che senso? che paura? cioè qual è la paura sulla partita IVA? ha paura che poi afflode non l'aprire facile molto semplice non l'aprire continua a fare il lavoro che fai no ma guarda che la partita IVA con il regime dei minimi è molto sostenibile in Italia è super easy non avere paura c'è la gente che ha paura di fatturare troppo no perché supera il regime dei minimi cioè è incredibile pensa che io non ho mai avuto una partita IVA anzi l'ho aperta da poco la partita IVA per l'università ma non ho mai avuto un regime dei minimi quindi non ho sfruttato questo vantaggio del sistema mi sono aperto ma prima non c'era Gian prima non c'era è una cosa che hanno messo da poco tipo da due anni l'avranno inserita nel sistema da parecchio che c'era Jeremy vabbè comunque mi sento meno sfigato però non credo che non ci fosse stata è solo che io avevo un socio e quindi abbiamo aperto una società come prima c'era il fattore che avevano fatto l'SRLS che poi allora quando ai tempi miei ora lo posso dire ai tempi miei ragazzi non esistevano le SRLS quindi io ho speso i famosi 2500 euro dati al notaio che è anche il 25% del capitale versato minimo che potevi versare di 10k di 10.000 euro che se li è presi il notaio mi ricordo ancora stavo scrivendo il mio assegno avevo solo tipo 1200 euro nel conto 1500 euro la mia parte 1250 euro perché il mio socio che era molto più grande di me ha firmato il suo e io guardo e dico ma come si scrive l'assegno? dove devo scrivere? dove devo firmare? cioè mi sentivo super sfigato il notaio si pappa tutto dicono il cane dove l'Italia è un po' fascinale che fonda un LTD UK può fare agenzia senza IVA UK se fa meno di 65.000 sterline ed è anonima allora intanto se fai meno di 65.000 sterline perché ti stai a fare tutte queste pippe mentali che c'è il forfettario italiano che non paghi un cazzo di tasse scusa è il cazzo di scorsi però l'offshore è figo fa branding ma non ha senso poi ragazzi tutta la storia dell'anonimo è come la Lambo offshore is the new Lambo sì tutta la storia quindi intanto ragazzi non vi fate così tante seghe mentale e poi l'anonimato ormai è una cosa che non esiste di fatto più perché le banche ti fanno il KYC e tutti quanti sanno chi sono i beneficiari owner chi sono i beneficiari effettivi e gli stati possono con un attimo fare un'interrogazione alla banca e sapere chi è il beneficiario effettivo quindi ragazzi non fate le robe tipo no perché anonima faccio finta faccio quello faccio quell'altro se volete fare una scelta prendete quella scelta di petto e vi spostate dove volete andare a fare business ok allora con il regione dei minimi non potete scaricare puntualmente sulle fatture di acquisto dei costi ovviamente non potete scaricare perché non non pagate l'utile cioè lo scaricare i costi vuol dire abbassare l'imponibile vabbè faremo una diretta su questo si può scaricare niente ma sì ma perché paghi in modo forfettario appunto cioè ovvio che non scaricare scaricare l'utile scarichi i costi e abbassi l'utile quindi abbassi l'imponibile l'imponibile vuol dire quant'è la cifra su cui tu paghi le tasse perché voglio andare pure verso la chiusura di questa diretta Francesco il billionaire abbiamo Nello che in questo momento ha problemi di linea ha fatto dei supermoduli per quanto riguarda brand identity per quanto riguarda uno store con brand identity c'è tutto un certo tipo di comunicazione dietro il brand quindi poi tu che ti sei appena laureato allo IED che mastichi benissimamente photoshop e tutto il pacchetto adobe nel billionaire c'è quello che fa per te con chi stai parlando scusami ho risposto a Francesco Prove che dice sto lanciando il mio primo brand di moda avete consigli anche di qualche corso che hai fatto cioè noi abbiamo fatto il billionaire che tratta di e-commerce ok di e-commerce e del modello di business dropshipping che praticamente ti permette di vendere un prodotto senza averlo però all'interno siccome questo tipo di attività si è evoluta abbiamo valutato proprio il fattore di andare ad inserire all'interno di questo corso un percorso proprio di brand identity che aiuta ad aumentare la percezione è una serie di cose che aiutano comunque a vendere a scalare il proprio business quindi tu puoi utilizzare sia la parte di costruzione dello store sia la parte di brand identity per quanto riguarda affiancare proprio il brand dare un messaggio proprio al brand tramite tramite il sito tramite i post sui social e utilizzare anche le strategie di facebook ads per promuoverlo e iniziare a vendere il tuo il tuo marchio di abbigliamento ok allora quando è il termine utile per il momento giusto per assumere un collaboratore magari ci rispondiamo a queste domande un po' più tecniche nei prossimi giorni quando parliamo di collaboratori di base quando ti serve poi esatto quanto ti serve quello che consiglio adesso a seconda di quello che state facendo che assumere è una cosa che ancora ha un senso per molti versi per molte attività chiaramente ma in altri soprattutto se state facendo e-commerce o state facendo un'attività così digitale non ha troppo senso assumere conviene invece avere dei partner dei collaboratori qualcuno che ti fa quella specifica cosa con quello specifico accordo e quello lo puoi fare subito cioè puoi andare su freelancer e farti fare un video su fever e farti fare un video ok cose di questo tipo il logo la grafica il template allora guarda c'è una bella domanda una bella domanda qui scusate la domanda un po' così dice bruchetto 90 il nome fa molto ma se uno lavora solite 8 ore al giorno riesce a sfruttare il billionaire fare un piccolo side business online allora ti voglio rispondere con uno screenshot che ho preso oggi dal billionaire di uno dei nostri studenti che è Antonio che ha messo questo screenshot in cui scorreva è un video si è un video del billionaire e sono tutte le notifiche della sua bacheca 8 minuti fa 9 minuti fa 10 minuti fa ok praticamente in 7 minuti 3k 3.000 euro in 7 minuti questo per dirvi che Antonio che è un ragazzo che trovate il video pure su youtube abbiamo fatto tutta l'intervista all'inizio quando era proprio all'inizio quando aveva iniziato a collaborare con noi perché si era distinto tra gli studenti del billionaire abbiamo iniziato gli abbiamo fatto gestire campagne dove gestiva 10-20.000 euro al giorno quindi immaginate diciamo l'esperienza che uno può acquisire venendo dal billionaire appunto quindi già parliamo di un top level e lui lavorava 8 ore al giorno 8 anzi più di 8 ore quanto racconta ma lo racconta nel video tipo 12 ore al giorno perché lavorava in una delle big four e lo spremevano tipo un limone e lui la sera si metteva a studiare un po' la sera e poi nei weekend quindi chiaramente ci deve essere sempre qualcosa che sacrifichi devi sacrificare da qualche parte può essere le maratone su Netflix può essere le maratone a Call of Duty può essere le serate fuori a cazzeggiare e a umbriacarti come uno schifo umano eccetera eccetera cose che facciamo tutti però che se ci sono dei periodi di alto focus può essere un mese due mesi sei mesi un anno tu devi focalizzare e concentrare su quello come dicono gli inglesi it's up to you it's up to you quindi la risposta è sì assolutamente sì e lui è veramente la testimonianza e Sharon dice ma cos'è il billionaire infatti Walter sanno subito adesso ti lapidano Marco Marco si è frizzato penso un po' no io le stavo rispondendo in chat ah ok scrivete voi io ragazzi da poco penso che me ne vada a mangiare qualcosa che sto morendo tante delle male parole la masterclass sull'e-commerce per aprire e portare in profitto il tuo store online anche se non sai cosa vendi anche se non sai cosa vendere ancora dall'A al business e partire da zero in 60 giorni questa è la nostra nuova promessa praticamente con l'e-commerce dall'A al business comunque è molto bello come pay off grazie secondo me Roberto Carlino ne sarebbe fiero no rende rende tanto l'idea dalla A a me lo dice Richie sì dall'A al business Sharon adesso dacci conferma che sai cos'è il billionaire se no non possiamo andarcene sereni esatto non si può allora ragazzi sì vi giriamo il calendario delle prossime dirette sul gruppo Telegram con propri titoli delle dirette così io vi consiglio di partecipare a tutte queste dirette tra l'altro se riusciamo facciamo pure una lista di notifiche così vi potete scrivere vi arrivano proprio le notifiche delle dirette del programma e qualche materiale inedito perché non metti il timer su Instagram hai ragione perché oggi neanche l'ho segnalata veramente la diretta su Instagram va bene quindi comunque teniamoci teniamoci che domani vi diamo tutti gli aggiornamenti su quello che accadrà prossima diretta confermata è sicuramente abbiamo avvisato su Telegram oggi Marco della diretta sai che no neanche su Tele oggi proprio a cazzo abbiamo fatto vabbè ci sta è partita l'email comunque lo sapevano ah oggi c'era l'email almeno almeno quello vabbè buono ok va bene almeno quello ok ragazzi quindi da oggi allora guarda i video di John su YouTube qui siamo cresciuti tutti a panel ballarani citazione Nico è vero è vero sette giorni di iscrizioni che mi sono perso questo passaggio sette giorni abbiamo riaperto le iscrizioni per sette giorni quindi da è arrivato pure il Franz Giacoglia Franz è arrivato un po' di ritardo perché noi qui stiamo chiudendo quindi aggiornamenti su Telegram e diamo il via alla ma io non so se la cosa mi sono veramente così dimagrito un mese che non vado in palestra mi sto spaventando vabbè comunque diamo il via alla e-commerce start-up week quindi si parte con la nostra settimana dell'e-commerce è ufficialmente aperta l'iscrizione mi spiace per Fran Ceper che è entrato ah è entrato giustamente per dirci che non funziona il link del canale Tegra oh c'è sempre questo problema con il link del canale Tegra eh dobbiamo cambiarlo da Twitch eh ok metti metti il link testuale ora quello vero quello che funziona eh lo devo trovare metti il link che fa sa perché non funziona non ho capito perché forse boh è diverso e quindi il comando è stato fatto tempo fa però qualcuno funziona invita via link ok copia link ora me lo mando ragazzi eh state tranquilli state sereni che ora vi arriva ah ma io volevo sparare anche una un'informazione golosa come direbbe Fra vai che in realtà stiamo preparando un qualcosa per Twitch specifico per Twitch ah cazzo è vero bravo ma di una portata veramente diversa cioè un qualcosa di veramente veramente innovativo ma lo stiamo ancora preparando Marco ma guarda che è pronto ho fatto anche il modulo per avere i concorrenti ma stiamo scherzando attenzione ragazzi svolta delle svolte notizia incredibile abbiamo preparato un un modo ma non lo spoileriamo la prossima diretta abbiamo preparato ragazzi un modo per imparare divertendoci a a fare cosa a fare cosa a scoprire i punti di vista del mondo sul lavoro l'impresa e su come si spendono i soldi basta non so entra un applauso me ne lavo le mani una cosa del genere va bene ragazzi questo qui lo vedremo e apriremo le candidature pure per questa cosa qui ma 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 siamo siamo al momento shout out perché io volevo fare uno shout out a due persone che non so il nome che sono i primi due utenti smart che hanno guadagnato delle commissioni e proprio oggi sono arrivati i primi due utenti da referral quindi cheers to that sì l'avevo mezzo spoilerato prima questa cosa tra l'altro volevo fare una premessa per chi avesse smart e chi sta seguendo diciamo l'affiliazione sono in arrivo degli asset super super interessanti anche per chi fa quindi stay tuned su balla flicks ogni diretto è diverso oggi ragazzi avete visto Marco cioè incredibile io pensavo non sarebbe mai giunto quel giorno invece come tutte le cose arriva pure la morte prima o poi porco demonio lo dovevi dire dio santo Nico ah ok pensavo fosse arrivata già in anticipo no porca insegnante vabbè vabbè oggi ho attivato il pro oh bravo franz bravo franz ragazzi ma il pro quando quando scade la quando scade allora doveva doveva scadere questa sera solo che visto che abbiamo avuto qualche problema tecnico con i check out con con le integrazioni abbiamo prolungato e adesso mandiamo una comunicazione con con la scadenza della pro allora detto questo vi volevo vabbè quindi non scade oggi domani vabbè insomma vi aggiorniamo per ora è ancora attivo il bonus del 50% su smerkets pro smerkets pro smerkets pro ok allora il mio articolo su medium ti è piaciuto è fantastico mattia il tuo articolo su medium nico come vedi la questione di responsabilità morale verso i compratori il 3 ragazzi allora tutte queste domande rispondiamo responsabilità morale verso i compratori cosa intende per tutte queste domande io vi aspetto insieme ragazzi io vi aspetto dopo domani Marco tu da dove sarai in stream da quale hotel no penso da casa sto giro ok hai finito il tuo giro di ok ma Marco si va a fare i giri quando c'è il lockdown ovvio ovvio vabbè perché c'è meno concorrenza a me piace va bene ragazzi io direi ci siamo fatti due ore e dieci per oggi vi salutiamo e ci vediamo ci sentiamo sul gruppo telegram ragazzi e vi diamo tutti gli aggiornamenti allora scusa smart cats pro che ho acquistato è rivoluzionario non lo posso inviare se non ho un metodo corretto se no non farei una buona pubblicità cioè grazie vabbè ragazzi è stato bello io sono ancora in attesa dell'applicazione adobe creative cloud su smart cats confidiamo la tua sì ragazzi sta arrivando tutto scrivete nel gruppo telegram di smart cats se avete esigenze con smart cats ciao ragazzi se qualcuno se qualcuno ha registrato questi due secondi che gian faceva così fateci un per favore per favore ciao ho acquistato smart cats pro e ora ho le dirette di danicao gratis grazie per tutto scaricate smart cats che è gratis poi passate alla pro che è al 50% per sempre fino a quando non scade il il coupon che è tipo domani oggi domani vabbè ragazzi non mi ritrovo più come si chiude questa live ecco però l'ho trovata è stato bello ciao 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 ciao